Bella a tutti ragazzi, sono EnemistForever e benvenuti in questo nuovo video Finalmente sono ritornato a fare una serie, diciamo a fare video su Youtube Mi sono preso un periodo di pausa perché, boh, non lo so, ogni tanto ci vuole un periodo di pausa anche se è stato bello lungo Comunque adesso iniziamo a registrare video Voglio iniziare a fare una... ma che cazzo? Voglio iniziare a fare una serie su questo gioco Don't Starve ovviamente Se non sappia cos'è Don't Starve si vada a vedere che cos'è su internet No vabbè, comunque è un gioco di sopravvivenza, è quello che vi dico Anche se l'avevamo già giocato, questa qui è la versione completa, l'ho presa su Steam nel periodo dei saldi E quindi noi andremo a giocare, a giocarlo È un gioco hardcore quindi se muoviamo una volta, ciao ciao Allora, iniziamo intanto play e new game Allora, iniziamo con... possiamo scegliere i personaggi, per adesso ho sbloccato lui Cioè lei, diciamo Però... io voglio iniziare con Wilson, che sto qui anche perché basta, perché è più figo Comunque iniziamo? Allora, ehm... merda, volevo solo un attimo vedere una cosa Ah sì, volevo aumentare, diciamo... lo spawn, diciamo... delle bacche e delle carote Anche perché ci sono pochissime e... senza quelle non si vive, diciamo Aspetta... no, ok Ok, solo così e basta Poi, vabbè, possiamo anche startare il gioco e... bene Tanto si sta generando Dovrebbe aver finito... ecco Ehm... non so che cazzo sto dicendo E ce l'ho in inglese quindi... è buono, non so perché ce l'ho in inglese Allora, siamo spanati qua Wow, interessante Allora, ehm... siamo spanati Mh... Bene, troviamo già dei fiori che per adesso non ci servono una minchia, ma io dipendo lo stesso Cosa c'è laggiù? Ehm... preferiscono andarci adesso magari, perché non mi ispira tanto, però adesso un attimo Allora, raccogliamo intanto dei ramoscelli del flint, sì che ci serviranno per costruire gli oggetti per la sua vivenza come un'ascia Vai Benissimo L'ascia che ovviamente servirà per tagliare gli alberi Anche per usarla come un'arma per proteggersi, diciamo Oh, cosa sta a fare? Che figata Non l'avevo ancora visto Allora, ehm... intanto... prendiamo un po' di le... Uh, un tacchino, what the hell? Ma che cazzo? Cos'è? Un tacchino? Certo è un tacchino Sì Ma è troppo veloce, che cazzo Non ci credo! L'ho ucciso, no! Cioè, è una... avevo ucciso un tacchino No, no, sì credo La roba era finita... no, non ci credo è finita in mare, l'ho persa Ma com'è possibile una cosa del genere? Cazzo, avevo ucciso un tacchino, raga, è una cosa assurda Cioè... Ma Dio! Ah, non ci posso credere Non ci posso credere Iniziamo benissimo Mamma mia Vabbè, comunque raccogliamo ancora della lena che ci servirà un casino I conigli scappano Hanno, come si dice, aumentato la difficoltà nell'uccidere Sti pezzenti Quale fosse giusto per ucciderli, però? Succa Eh, allora Mmm... cosa facciamo? Racogliamo ancora un po' di linea Perché se no... sti cazzi, raga Ci serve un casino Zii Mica, ora sono felice di rifare video Allora Un seme Ok Intanto spero che vi piaccia questa serie Perché a me piace questo gioco Comunque vi parlo un attimo Ecco, vedete Non so, significa non morire di fame Ma ovviamente si potrà morire Di... Anche di vita Va di vita Diciamo che vi possono uccidere Come può finire la vostra Integrità mentale Diciamo Ovviamente Non so Come si faccia Influenzare In questo momento Ma vedremo più avanti Ehm... Intanto cominciamo ancora a tagliare Sì, a tagliare Sì, a tagliare Oddio Ehm... Ne, 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 ne Racogliamo ancora un po' di sta roba Che ci serve più del legno Probabilmente Uccello Allora, voglio andare a vedere cosa Cosa c'era laggiù Beh, allora Vedo delle teste Impiccate Di maiali Ehm... Touch what? Ah no Che... Non so cosa sia ragazzi Però... Boh, io raccoglio questo Fare in culo a tutti Che cazzo Non so neanche cosa sia questo Quindi non chiedetemelo Vedetemelo Però tanto bel cibo ragazzi Tanto bel cibo Allora, io non raccoglierei tanto Perché poi il cibo può andare a male Ehm... Oddio Niente Ehm... Il cibo può andare a male E quindi... Non voglio farlo andare a male Perché già è poco Allora Intanto vediamo un attimo La mappa Dove... Dove siamo? Siamo... Siamo da qualche parte Questa cos'è? Ehm... Oddio No, io non ci salto dentro Sti cazzi Io direi ancora di raccogliere Un po' di roba Tanto per raccoglierla Ehm... Dato che Ci servirà un casino Anche se Mi servirebbero Delle pietre Quindi non saprei Dove andare Io proseguirai verso nord Mi servirebbero delle pietre Io raccoglio ancora un po' di questo Un po' di questo Non si può saltare, no? Neh, no Là c'è una pietra Fa un culo Mi serve Comunque raccoglio ancora un po' di sticosi E stiazzi Allora, vediamo qua Qui ci sono tutte le... La barra del crafting Diciamo Come Minecraft Solo che Don't starve E ci servirà a craftare della roba Ovviamente per Come dire Bene Qua già troviamo un alveare Quindi sti cazzi Veramente Perché io ne valo io Allora Una roccia Bene Ok Allora Sta per diventare notte Quando diventa... Voi ragazzi Già adesso non vedete una minchia Quindi Oh merda Non so che cazzo sia Comunque già adesso non vedete una minchia Figuratevi quando è notte Cioè non si vede proprio un cazzo Quindi ci servirà a accendere Come dire Un fuoco Ehm Dove lo accendiamo Dove andiamo adesso Non c'è... Ok Allora Un fuoco Vediamo un po' Facciamo questo Lo mettiamo Qua Ok Abbiamo creato il nostro fuocherello Adesso lo alimentiamo Con dell'altro legno Ok Ok Benissimo Adesso che abbiamo appiccato il suo primo fuoco Direi ancora di raccogliere La roba che c'è qua intorno Tanto per raccoglierle Poi qui ancora E tagliamo quest'albero Tanto per farlo Roll O rotolash Bene Ce ne craftiamo un'altra Ok Allora Ok Benissimo Ok Allora Adesso che abbiamo Cosa facciamo Dobbiamo mangiare No vedete qua Già la barra sta scendendo Dobbiamo mangiare Io potrei mangiare direttamente così Però Preferirei cucinare la roba Dato che Cucinandola Otterrò Come dire Un risvolto maggiore Cioè Un'efficienza migliore Nel cibo Ci riempirà Tipo la barra In poca parola Quindi Cuociamo tutto Questo cos'è? Uno stinco di maiale Sì? Sì vero Delle carote Ok Allora ragazzi Vedete qui Tutta la roba in verde Si Diciamo che si Quella che si può mangiare Però Io Consiglio di mangiare le carote Questo E questo che danno di più Questo Da vita Credo Cucinato Però Non lo mangio ancora Dato che la vita è piena Quindi Cazzo lo mangio a fare Allora Un'altra cosa Ok Allora Vediamo un po' La barra del crafting Allora Qui No Non posso Fare un piccone Dato che Mi manca La flint Qua Una torcia Qui invece Una trappola Per gli uccelli Sì Beh Non solo per gli uccelli Però Ok Ecco Noi dobbiamo fare questa La macchina della scienza Cosa che ci permetterà Di Craftare Molte più cose Ovviamente andiamo A Trovarci un posto Diciamo Dove Dove stare Ovviamente tutta la cosa Ancora un po' di materiali Allora Dove andiamo Io direi di andare Verso Da questa parte Dato che ho visto Delle pietre Ma anche Ma Potremmo andare anche Verso da questa Dato che sono curioso Di vedere cosa c'è laggiù Faccio un attimo Scorte di cibo Oh Un'appe Oddio Ah si Mangiamo Che deficiente Non ho mangiato Vabbè Ok Ci liberiamo anche questa casella E poi Mangiamo una bacca No non dro Ma che idiota Che sei Hit Ok Perfetto Ecco Mi stai seguendo? No no Ok ok Allora Andiamo verso Qui? Sì ok Proseguiamo Proseguiamo Mi serve un pezzo Di flint Però per Rompere questo Diciamo Tanto che non ho un pezzo di flint Sono nella merda Ho sentito un maiale Ho sentito un maiale Oddio Lol I maiali Non ci tengo Ma che cazzo Io Non so cosa ho trovato adesso Però Diciamo che ho trovato un accampamento di maiali Assurdo Ma non voglio starci vicino Perché Non Non ci tengo Ok Lì ci sono i ragni Molti ragni Oh ma voglio trovare un fototissimo posto Dove Sì ma che dio è sta cosa Oh merda Ma cosa sto facendo? Io me ne vado via Un'altra casa di maiali Ma che senso ha? Ma che senso ha? E stare qua Oh merda Ho trovato una foresta Che non mi serve ancora Ok basta I cori Dio Vai vai maiali Attacca Attacca maiali Attacca 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 Sì ho ucciso Un Fottutissimo No Non uccidetelo Spezzenti Non puoi Ucciderlo Sì Grande maiali Io ti stimo Ti love Ti mangio Comunque abbiamo ucciso Tiranni E' stata una cosa emozionante Cosa devo fare Mattio Non ho più spazio Non ho più spazio Quindi Merda Comunque cosa devo fare E ma se distruggo quella cosa esce qualcosa Cioè no nel senso Ah è vero L'abbiamo ucciso i rani Go for the eyes Ok volevo prendere la ragnatela Che mi servivano Bene Abbiamo ucciso dei rani Grazie a un grandissimo maiale Oh man Dai seguici No 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 seguici seguici Oh idiot Che cazzo fai Ma puoi andatene anche Oh merda Adesso crescono molti più la Figa zio Figa Andiamocene Oh merda Oh merda Oh ma sono nel territorio dei ragni Dove cazzo mi sono cacciato Cos'è sta cosa Morirò Basta Morirò Ma guardate dove siamo andati a cacciare Cioè Una foresta così Ma dio Una cosa del genere Non l'avrei mai trovata Nessuna pa Cioè ma che cazzo Questo è il gioco Diciamo che andremo a giocare Faremo una serie Sì Purtroppo E Allora Ma come devo andare da quella parte Cavolo Cioè non si può Dobbiamo girare di qua forse Anzi forse dobbiamo andare a fare il giro direttamente Non so Però te lo raccolgo una carota o una bacca Ok Dove cazzo sta andando Non lo so raga Ci sono solo le api Quindi ciao Api stanno ritornando Ah ecco Tecca Tecca Se può passare Se può passare Ho una pietra Interessante Ma non ho un fotutissimo Pezzo di flint Non è possibile Non ci credo Vabbè Sapete che vi dico Adesso Mi faccio un fuoco E basta Ok Ehm Vai Ok Se ci fosse un fottuto Pezzo di flint Ci sono rocce Ci sono rocce 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 What the hell bitch What the hell Oh merda Che cazzo di posto è Boh Un cimitero Comunque adesso non ci tengo ad andarci Allora Ehm Raga Non so che cazzo Fa Non ho un pezzo di flint Quindi non posso rompere Quelle dannate pietre Cosa che mi serviva Rompere Ma porco il cane No povero cane Allora Ecco vedete Io devo fare sta cosa Mi serve un d'oro L'oro si trova nelle rocce Per rompere le rocce Mi serve un fortissimo piccone Ma io non ho piccone Mi serve una flint E io ho solo un pezzo di flint Cos'è questo Vabbè Qui potrei fare Una Allora Io direi di cucinare Veloce la roba Ok Molto bene E io direi di Mangiarla Mangiamo due carote E anche Delle bacche Dai Mangia Aspettate Imagine Allora No no niente Questo cos'è Boh me lo faccio Allo sto comunque Allora Mi serve un Fottissimo pezzo di flint Allora Alimentiamo anche Ok perfetto Con una pigna Perché ragazzi Se faccio questa Posso craftare Molte più cose Mi farò uno zaino Diciamo Cosa che mi serve Qui c'è una linea Lancia Grasuit Ah da questa è un'armatura Mi serve ancora un pezzo di cosmo Ancora Non voglio farla Voglio stabilire Un posto in cui restare Ma mi serve una flint Dannazione a tutti Ok Qui la salute Cos'è la salute mentale Sta scendendo Dovremmo raccogliere dei fiori Ok dai Sta per Come dire Inserire il giorno 2 Bene ragazzi Allora Se l'episodio Di oggi Vi è piaciuto Volete vedere in alto Cliccate mi piace Se no Lo farò lo stesso Sono simpatico Lo so Vabbè Ok Lag assurdo Io ragazzi Vi saluto Ci vediamo Nel prossimo episodio Di Don't Starve Farò video Oh Cosa ho sentito Ho sentito Un tacchino Era solo la mia immaginazione Probabilmente si Vabbè ragazzi Allora Vi dico solo questo Quindi Se vi è piaciuto Vedete mi piace Se non Ancora fate Iscrivetevi Commentate Basta Oddio Che cazzo è Ok ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti